Allora il gioco consiste, quando partirà la musica, vieni Ale, vieni qua vicino, dovrai immergere la faccia nell'acqua, prendere la mela e passarla in bocca ai tuoi componenti. Una volta che è arrivato Alessia, Alessia deve ritornare indietro di qua. Pronti? Ci siamo? Base musicale, via con la penitenza! Alessandro, un applauso! Ale, Ale, per favore, da di là, da di là, da di là, per favore. Vai! Ok, è una mela bella grossa, vai! Malone! Love is great, love is fine Out the box, out of line The affliction of the feeling leaves me wanting more Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it Sex in the air, I don't care, I love the smell of it Bellissimo che si vedi tornare indietro La mela dentro, la mela dentro Il domanda dal Summer Pub di San Ben San Lo show dei talenti valdostani e piemontesi di tutto il nord Italia Qui a più tardi, ciao! Per ogni risposta adesso errata dovrai toglierti un indumento Ok? Gli occhiali vanno per un indumento Applauso al nostro Mister Italia, vieni qua in centro Allora adesso ti faccio lasciare il telefono un attimo qua se ci stai Allora mi devi dire il capoluogo di regione della Groenlandia Vediamo se lo sa Musica! Quello che vuoi Musica, Paolo! Nuovo comando, nuovo cartello, nuovo ordine Cantare con un dito nel naso Bene Grazie Paolo Adesso vediamo eh Pronti con la musica? Vai con la penitenza Quella che vuoi Guarda il nostro Mister Alessio verso la camera Verso la camera Quello era un limone Io l'ho visto No, è una mera Devi ritornare indietro Rosaria vai Con le mani applauso, applauso, applauso E ma il nostro Luca cosa fa? Marisa, Marisa Marisa Non è colpa di Luca, guardatelo Tu non puoi avversarmi così Marisa, ha perso la camera, Marisa Marisa lo fa per prendere tempo, quella è la verità Guardalo Non aiutiamoci con le mani Non con le mani Ecco qui Guarda il nostro Mister come se la cava con le mele Applauso Pubblicità tra poco, Maggie Con tanti altri giochi Ok, pronti? Via Posa sexy Due Posa sexy Questa è una E questa è due Un applauso Sexy Vediamo la sfida dai Ok E la recitazione se la cava così Applauso Buonasera Buonasera Lei andrebbe di parlare del teorema fondamentale di isomorfismo Magari bevendo un po' di caffè insieme Facciamo che cominci a darmi del tu Sì, questa potrebbe essere una buona idea Magari Nel senso, mi piacerebbe un po' di discutere di matematica Anche magari davanti a un caffè O insomma, se preferisce anche in una sala da ballo Insomma, dove vuole lei? L'importante è che ci vediamo Sala da ballo sarebbe preferibile Sì, ok Però il fatto è che io come balli Insomma, non me la cavo molto bene con quelli latini Quindi preferisco quelli popolari Nel senso, musica macedone o cos'è così Tarantella? Anche la tarantella può andare bene E andiamo di tarantella E voi? Barbara? Stavamo andando bene, eravamo alla tarantella Ok, allora continuiamo Scusa Aspetta, perché secondo me la sua matematica è la 69 Quali sono le matematiche di cui vuoi discutere? Recitazione, pronti, partenza, via No, la questione è che Sai, non so, avrei incontrato miliardi di persone, di uomini Che ci hanno approvato con te in maniera molto normale Invece io volevo fare, come dire, un pochino l'originale Fare qualcosa di diverso Su questo ci sei riuscito Sì, vero? Era il mio obiettivo Quindi benissimo, ce l'ho fatta, no? E il punto dove vogliamo arrivare? Eh, non lo so, perché io parlo sempre tantissimo Poi alla fine giro intorno alle cose Ma non ci arrivo mai a quello che devo arrivare Un applauso a Yuri Però